linguaggio del corpo femminile e seduzione capire il linguaggio corporeo è importante andiamo a leggere un articolo di marco a cui è molto legato una volta mi disse che è pazzesco come molti uomini inizino a studiare il linguaggio del corpo per saper leggere le donne e alla fine diventino dei robot in cerca di segnali corporei ma vediamo l'articolo qualche anno forse decennio fa diventarono famosi i primi libri sul linguaggio del corpo per merito dei coniugi pis sembrava di aver scoperto il santo graal finalmente si poteva capire cosa pensavano gli altri un campo in cui si è voluto applicare subito è stato lo studio del linguaggio del corpo femminile questo per capire i segnali di gradimento femminili e rispondere a una delle domande che l'uomo si fa da sempre dopo che senso alla vita e siamo soli nell'universo il piaccio a quella donna poi però le voci troppo entusiaste si sono calmate il boom dei corsi di linguaggio del corpo è finito anche se in giro ci sono ancora molti corsi in merito ed ecco la domanda capire il linguaggio del corpo femminile è utile la prima risposta da dare è tu capisci già il linguaggio del corpo degli altri nel senso che non hai bisogno di libri per capirlo ma lo fai già istintivamente ad esempio se una persona incrocia le braccia mentre gli parli e fa una faccia annoiata cosa pensi se invece sorride e ti guarda con attenzione cosa pensi come vedi capisci già il linguaggio del corpo quindi la domanda diventa è utile capire meglio il linguaggio del corpo femminile nella seduzione certo è utilissimo ma non servono necessariamente i corsi di linguaggio corporeo per questo quando inizi a non limitarti a provarci con le donne che ti piacciono è naturale che la tua capacità di lettura dei segnali di interesse aumenti e questo senza che tu ci debba pensare quindi con la pratica impari a leggere i segnali del linguaggio del corpo con l'istinto e quindi la domanda si trasforma ancora e diventa è utile capire meglio il linguaggio del corpo femminile nella seduzione attraverso libri e corsi quindi in modo conscio la risposta non è netta va articolata all'inizio per molti uomini che vogliono migliorare nella seduzione è utile capire i più semplici segnali di interesse per i più semplici intendo la lista di segnali di interesse e del linguaggio del corpo trovi il link al video e all'articolo nelle informazioni qui sotto perché a un uomo in questo stadio è molto utile notare come sia facile ricevere dei segnali di interesse questo lo motiva li dà forza e voglia di migliorare ancora inoltre inizia a migliorare la sua capacità di lettura del linguaggio del corpo poi questi segnali non saranno più letti a livello razionale ma a livello inconscio ci sono poi tutta una serie di segnali più complessi della lista di cui parlo ti faccio un esempio con un commento di un utente che scrive direzione della punta del piede la punta del piede mostra la direzione di interesse se ti punta è un segnale positivo il piede è la parte più sincera del corpo al contrario del volto appena ti vede conta la primissima reazione se ti saluta arcando le sopracciglia sorridendo sorriso flashato vuol dire che c'è interesse se c'è qualsiasi forma di tensione esempio il rigidimento mascella o smorfia con la bocca o chiusura degli occhi non c'è interesse se incrocia le gambe stando in piedi a volte anche da seduta cavallando le gambe vuol dire che si trova proprio agio perché i piedi segnano il dominio dello spazio di una persona e incrociarli vuol dire che c'è dello spazio con l'interlocutore cosa ne pensi reborn è utile guardare a capire questi segnali per una persona con poche capacità seduttive assolutamente no anzi può fare molto male perché perché invece di focalizzarsi sul divertimento sull'esprimere energia maschile sullo scherzare sulle tecniche di seduzione che gli piacciono si mette ad analizzare a dismisura i segnali corporei di lei ma non puoi fare dieci cose allo stesso tempo e se ti metti a guardare tutti questi micro segnali ti perdi le cose veramente importanti quelle che fanno la differenza quelle che ti consentono di sedurre una donna e per un uomo che invece ci sa fare nella seduzione questa lettura avanzata del linguaggio del corpo femminile è utile può darsi ma ci sono un paio di cose che non mi sconfifferano è difficile rendere questo tipo di lettura inconscia istintiva ho conosciuto esperti che da anni studiano spiegano e praticano questo tipo di lettura del linguaggio del corpo e ancora non l'hanno resa automatica una donna manda decine di segnali ogni secondo a livello non verbale focalizzarsi su alcuni piccoli dettagli può farti perdere il contesto generale del linguaggio corporeo femminile in linea generale studiare questo aspetto non è facile quindi mi astengo dal dare una mia opinione definitiva sullo studio del linguaggio corporeo femminile e seduzione per gli uomini che ci sanno fare di una cosa però sono sicuro prima di studiare queste cose ce ne sono decine e decine di più importanti sì lo so l'idea di capire gli altri è molto più affascinante ma se parliamo di aumentare il successo nella seduzione la lettura avanzata del linguaggio del corpo passa in secondo piano prima ci sono una serie di pilastri ad esempio la capacità di scherzare di esprimere energia maschile l'espressività il tuo linguaggio corporeo la capacità di approcciare e rimorchiare una donna sconosciuta lasciare andare la paura del giudizio degli altri vincere la timidezza insomma un sacco di cose quindi il mio consiglio è focalizzati prima su tutte queste cose soprattutto sulle aree in cui sei carente dopo se ne senti il bisogno potrai studiare come leggere in modo avanzato il linguaggio del corpo femminile nella seduzione abbiamo finito ricordati di iscriverti al canale youtube se vuoi ricevere altri aggiornamenti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.